Le emozioni del presente sono forti, proprio perché abbiamo vinto il campionato con tre partite di anticipo e quindi abbiamo tantissimo tempo per godere insieme alla nostra società e a tutti i nostri tifosi di questa bella vittoria. I nostri tifosi vanno ringraziati perché davvero sono stati il nostro dodicesimo uomo in campo, soprattutto fuori casa non ci siamo mai sentiti da soli e quindi questo credo che sia per il Cassino un valore aggiunto. Poi la società non ci ha fatto mancare mai niente, il nostro Presidente è stato sempre molto attento a tutto e davvero è stato per noi un grande Presidente e una guida importante per tutti quanti. Poi vorrevo ringraziare anche tutti quelli che sono stati i miei collaboratori, preparatore atletico Pittiglio, preparatore dei portieri Railvi, il nostro massaggiatore, ma massaggiatore non chiamerei perché è praticamente il nostro Angelo Custode, il nostro Carletto, la società tutta, i direttori Patini, Lillo, scusatevi se dimentico tutti, però credo che sia stato davvero un grosso lavoro di equip, è una vittoria che dobbiamo sentirci addosso tutti. Poi invece per quanto riguarda il futuro credo che sia ancora presto, credo che dobbiamo avere tutto il tempo per godere di questo presente perché davvero è stato tutto molto bello. Io e i nostri tifosi, ho detto già, ho risposto prima, i nostri tifosi sono solo da ringraziare, a parte che sono stato il nostro dodicesimo uomo in campo, però soprattutto nei momenti importanti, soprattutto fuori casa, quando la squadra ha bisogno del calore del proprio pubblico, noi non ci siamo mai sentiti fuori casa e forse anche per questo abbiamo vinto tante, tantissime partite fuori dalle mura amiche e quindi credo che non ci siano parole proprio per descrivere quello che effettivamente anche nella critica, anche nella critica i nostri tifosi ci hanno dato quella spinta in più per cercare di fare sempre e ancora meglio. Soprattutto nel momento difficile, quando avevo bisogno di sapere che cosa ne pensasse la società del sottoscritto, credo che il Presidente mi ha dato una risposta forte, eloquente, di grande fiducia nel sottoscritto, però credo che i momenti difficili vadano gestiti come abbiamo fatto, credo che siano giuste anche le critiche perché poi attraverso le critiche uno pensa, ragiona ed è stimolato a fare ancora meglio.